5-6 da un lato, poi 5-6 dall'altro 2-6 da un lato leggermente la distanza, facciamo 2 passi accostati a sinistra e poi si rientra 2-6 da un lato perfondiamo 2-6 da un lato arrivati alla linea dell'area apriamo la corso e andiamo a sistemarci dall'altra parte sciolti vi lascio andare Paolo, a possesso lo facciamo qua? No, vieni, vieni. Non so. A possesso lo facciamo qua? Sì, ci ho messo, ho fatto... Allora, quando ci siamo? Oppa, via! Uno, bravissimo. Palla dietro, con lui prestato, che ha solo la palla lunga. Pitti, stop, recupera la palla lì, lascia l'era. Via, via, veloce! Vieni, vieni, vieni. Cambia. E' l'attacco dell'alto. Ora cambiamo le due squadre. Ma no, è inizia. Sì, sì, sì. E' prima. A provare. Iniziamo. Andiamo, andiamo in avanti, andiamo in avanti, andiamo in avanti. Proviamo, ci ammoliamoci. Saci,oro. Andiamo via, non dutt'incrotto, non dutt'incrotto. Bravo. Si! Nei, so,rendiamo. Una volta scusa. All'interno, temi. zona posto! Forse la spalla. Noied! Sono penne. Sì, 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 avanti, 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 avanti! Sì, sì, avanti, 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 avanti! Sì, sì, avanti!